A braccia aperte è una raccolta di reportage che ho pubblicato nel giro di un anno e mezzo sul giornale per cui lavoro, Rassegna Sindacale. È un lungo viaggio, un viaggio attraverso l'Italia, dal nord al sud, per cercare di raccontare un mondo che è quello dell'accoglienza, dell'accoglienza fatta bene, per cercare di raccogliere storie di resistenza a quell'ondata xenofoba e razzista che sembrava e sembra ancora invadere questo paese da anni e quindi ho trovato quello che cercavo, persone, istituzioni, associazioni, enti, sindacati che nonostante tutto provano a mettere in pratica la buona accoglienza nel rispetto della Costituzione. Si va da chi si occupa dei campi informali nella piana di Rosarno per l'accoglienza ai migranti, si va fino a una scuola di italiana a Monfalcone nella Fincantieri per passare per le associazioni come Nonna Roma, a Roma appunto, o a Matera dove un'associazione ha messo in piedi una scuola di artigianato in cui a insegnare sono i migranti. È un libro che risponde a una domanda, una domanda che mi ero fatto, se esistesse un altro paese, un paese diverso da quello xenofobo, razzista, intollerante che sembrava apparire chiaramente dalla strada, dai social network, dalle testate dei giornali e questa ricerca si è conclusa positivamente perché sono riusciti a trovare delle persone che fanno altro, magari non finiscono i trend topic dei social network, magari non finiscono sulle prime pagine dei giornali, in televisione non se ne parla, ma lavorano quotidianamente per mettere in pratica quei principi della Costituzione. E quel titolo a braccia aperte oggi in piena pandemia, in piena epoca di distanziamento interpersonale forse appare un po' strano, ma io credo che oggi invece questo libro acquisti nuovo senso perché la pandemia sta in qualche modo sì da una parte equilibrando, è una livella perché colpisce un po' tutti il virus, ma non colpisce tutti allo stesso modo perché la quarantena, quello stare a casa, quello stare a distanza non è detto che possa essere possibile per tutti. Quindi torneremo a riabbracciarci probabilmente, ma se questo virus effettivamente vuole cambiare il modo in cui vivevamo, nulla sarà come prima, lo dicono in molti, io spero che cambi anche questo approccio securitario alle politiche sull'immigrazione e questo libro racconta le possibilità di farlo in modo diverso, perché c'è chi lo fa. Grazie. 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 Grazie.